leo il camioncino curioso la gru uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci stiamo giocando a nascondino robot viola introvabile anche lifty è sparito tra i grandi rottami il robot rosso si distrae guardando il camion gru che deposita un rottame molto in alto è un'idea nascondersi lassù si proviamo da quassù si vede il mondo intero bellissimo impossibile uscire da qui ehi il robot rosso è rimasto chiuso tra i rottami troppo pesante il camion gru il suo braccio è fortissimo evviva sì liberiamo il robot rosso questo vecchio camion è incastrato nei rottami ma sta arrivando leo ciao non riusciamo a liberare il robot rosso ti sta salutando come possiamo fare guardate questa è una gru fissa a torre sono potentissime componiamo la base i tralicci che compongono la torre uno due e tre la cabina per l'operatore della gru le parti scorrevoli del braccio l'una dentro l'altra i contrappesi gancio e carlugola ed ecco il cavo d'acciaio dove attaccare il gancio guardate la potente gru domina tutti i mucchi di rottami liberiamo il robot rosso i comandi sono nella cabina e già bisognerebbe volare per arrivare fino a lassù come ci arriviamo cosa sta cercando leo qualcosa per arrivare lassù qualcuno sta spingendo una piattaforma senza farsi vedere leo ehi leo con questa si può salire lungo la gru prendiamola non 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 prendiamo il braccio togliamo dall'alto tutti i rottami che bloccano il vecchio camion e via anche il camion attenzione robot rosso stiamo per volare a 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